La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo nella categoria innovazione e leadership, che è molto lunga, e passiamo a eccellenza dell'anno innovazione e leadership settore sanitario. Il premio va a Centro Atkis. A la nostra sinistra. Per essere un'eccellenza nel settore diagnostico e polispecialistico per la diagnosi e la cura di pazienti ambulatoriali, per garantire a ogni paziente il miglior comfort possibile e ridurre al massimo disagi e tempi d'attesa per le risposte tempestive, l'affidabilità e la grande specializzazione. Complimenti. Grazie, grazie al Centro Atkis. Buonasera. Diamo il nostro benvenuto al dottor Valerio Scoppa, CEO del Centro Atkis, diagnostica e terapia SPA di Merano Napoli, che questa sera ha ricevuto un riconoscimento importante. Le Fonti ha premiato il Centro Atkis come eccellenza nel settore diagnostico e polispecialistico. Dottore, come commenta il premio ricevuto e quali sono i vostri punti di forza? Buonasera a tutti. In primis volevo ringraziare l'organizzazione delle Fonti per averci permesso di stare qui questa sera e averci premiato con un riconoscimento così importante e gradito da parte nostra. Premio che voglio sicuramente condividere con tutti i collaboratori della mia azienda. Io credo che determinati obiettivi si raggiungono solo con l'impegno di un gruppo di lavoro che condivide le stesse finalità. Quindi voglio ringraziare fortemente tutti i miei collaboratori per il lavoro costante che mettono quotidianamente all'interno dell'azienda e che ci permettono di raggiungere determinati risultati. Una doverosa dedica, se mi permettete, perché credo che l'attualità delle aziende sia una cosa molto importante, ma è altrettanto importante il passato, da dove si proviene, da dove si è iniziati. Voglio dedicare questo premio a colui che ha dato vita alla nostra azienda. Il nostro fondatore, nonché mio padre Gianfranco Scoppa, che 40 anni fa, ed è questo proprio l'anno in cui festeggeremo i nostri primi 40 anni di attività, 40 anni fa, dicevo, apriva il suo primo ambulatorio medico, che poi con il passare del tempo diventerà quello che è attualmente la nostra azienda. Ebbene da quel piccolo laboratorio man mano è riuscito a creare una struttura di eccellenza sanitaria. I primi risultati che lui ottenne furono quelli di ottenere l'autorizzazione e le convenzioni di radiodiagnostica e di radioterapia. Branca molto sentita per lui e che attualmente rappresenta il fulcro dell'attività della nostra azienda. In seguito io diventerò amministratore nel 2010, dopo la sua purtroppo dipartita all'età di 61 anni. Avrò il compito di portare avanti quel suo progetto sanitario e a fianco a me troverò un gruppo di circa 50 collaboratori. Attualmente la nostra azienda conta circa 200 collaboratori. Abbiamo all'interno della struttura, oltre al reparto di radiologia convenzionato e radioterapia, anche un reparto di cardiologia, medicina nucleare altamente tecnologico e un grande laboratorio di analisi. Per noi l'eccellenza, diventare eccellenza è sempre stato un obiettivo che abbiamo voluto fortemente perseguire. Non ci siamo mai risparmiati negli investimenti tecnologici, ma ho iniziato sicuramente nella scelta degli uomini giusti. L'eccellenza per me è partire dall'eccellenza degli uomini, delle eccellenze mediche, eccellenze amministrative, dalle competenze dei nostri direttori di reparto e amministrativi, con i quali ho un colloquio costante sulla pianificazione aziendale, operativa, strutturale e tecnologica. Una delle principali caratteristiche del centro Actis è il tempo di attesa ridotto per ricevere le prestazioni. Dottore, come riuscite a garantire alti standard e tempistiche rapide per i vostri pazienti? Come dicevo prima, l'azienda fu fondata 40 anni fa da mio padre, medico radioterapista, uomo di grande cultura e professionalità, che ha dedicato la sua vita professionale alla cura contro il cancro. Lui diceva sempre un concetto fondamentale riguardo le liste d'attesa. Diceva il cancro non conosce festività, la malattia non si ferma, la malattia non attende, di conseguenza i pazienti non devono attendere le terapie di cui hanno bisogno. Abbiamo fatto di questo suo insegnamento una filosofia aziendale, filosofia aziendale devo dire condivisa da tutti i nostri collaboratori, che grazie alle loro professionalità, alle loro competenze e grazie anche ai macchinari più evoluti che esistono al mondo, di cui loro possono utilizzare nell'eseguire le terapie e gli esami ai pazienti, riescono a garantire tempi di attesa ridotti con prestazioni di gran lunga superiore rispetto al passato. Ora una domanda sul futuro. Come pensate di consolidare la vostra posizione di eccellenza e quali sono i vostri progetti? Noi al centro Actis siamo in continua evoluzione. Quest'anno in particolare abbiamo dei progetti di implementazione strutturale sempre per dare più efficienza e più servizi ai nostri pazienti. Continuiamo sulla strada che già abbiamo percorso fino adesso, cerchiamo sempre di migliorarci, cerchiamo sempre di aggiornarci sull'avanzamento tecnologico e poi chissà, ci auguriamo l'anno prossimo di venire qui, ricevere un ulteriore premio e raccontarvi i nostri sviluppi aziendali.